Intervistato a Gurulandia, il guru dei viaggi Human Safari ha espresso la sua personale opinione su dove preferirebbe andare. Infatti adesso ti flash al video originale che è stato caricato, lasciami anche un tuo feedback, iscriviti al canale YouTube e ci vediamo al mio prossimo video. Ci sta andare a Barcellona, ci sta andare a Londra, però tipo me le città europee mi hanno terribilmente annoiato. Se mi dicessero preferisci andare a Parigi o andare a Sarajevo? Madonna, Sarajevo tutta la vita! Te preferisci proprio quando c'è lo stacco culturale? Sì, ma anche perché essendo posti meno considerati, il visitatore esterno viene anche, non so, secondo me accolto meglio, capito? Cioè io mi sono sempre sentito super accolto in Albania, in Croazia non tanto, però lì sono chiaramente più abituati. Però tipo Albania, Kosovo, Macedonia del Nord, Romania, Moldavia, Bosnia, io vado fuori di te. C'è un volo a 20 euro, andate e ritorno a Bergamo, io andrei, però devo montare video quindi sto a casa.